Siamo qui in questa piazza e forse siamo 30, ma dietro di noi sono in centinaia le madri nelle stesse condizioni di queste 30 e sono migliaia i bambini che in Italia dal 2003 ad oggi sono state vittime delle istituzioni italiane a causa di una distorsione provocata da teorie psicologiche infondate, totalmente infondate, che sono state utilizzate per togliere i bambini alle madri che denunciano violenza, alle madri che denunciano abusi, alle madri che semplicemente si oppongono a delle pretese irrazionali paterne. Oggi qualunque motivazione è valida per nominare e incaricare un CTU, per diagnosticare un'alienazione parentale, una simbiosi materna, un conflitto di lealtà o un qualsiasi infondato disturbo del comportamento e con tale scusa e con tale motivazione assolutamente non fondata dal punto di vista documentale e fattuale, togliere i figli. Abbiamo pensato a delle proposte, prima di tutto un decreto legge affinché il governo al più presto, immediatamente, non fra sei mesi, non fra un anno, non fra due anni si possa risolvere il dramma ormai alla luce di tutti. Non siamo più 5, 10, 15, 20 professionisti a denunciare la distorsione di questo sistema. Insieme a noi c'è la Commissione Grevio che dal gennaio 2020 ha condannato l'Italia per questa distorsione, c'è la Sidao dal 2011 e la sua prima condanna, nel 2017 è ripetuta, c'è ancora la Commissione Femminicidio che a giugno scorso ha reso palese l'esito dell'esame di ben 1500 fascicoli processuali. Tutti i fascicoli processuali riguardanti madri rivittimizzate e soprattutto minori rivittimizzati. Queste le nostre proposte. Revocare immediatamente, con effetto anche retroattivo, i provvedimenti di ablazione di minori emessi già attuati o attuandi sulla base di teorie quali la PAS, l'alienazione parentale, la sindrome della madre malevola e altre teorie analoghe o da queste derivate, con previsione di ritorno immediato nell'abitazione materna. Secondo, considerare come fattispecie di reato rientrante nella violenza privata su minori le relazioni di CTU, assistenti sociali, tutori e curatori, nonché provvedimenti giudiziari finalizzati a sottrazione dei minori e loro istituzionalizzazioni decise sulla base di valutazioni orientate alle teorie a PAS o ad altre teorie analoghe o da quelle derivate. Sono tutti provvedimenti infondati, nazisti considerati dalla Cassazione. Non ci sono più scuse. Oggi non si hanno più scuse. Terzo, chiediamo che il decreto si richiami esplicitamente al rispetto delle convenzioni europee non solo di Istanbul, che protegge le donne vittime di violenza, ma anche di Lanzarote, che protegge i minori dagli abusi incestuosi. E questo è un aspetto che costantemente viene dimenticato, nonché i principi fondamentali della Costituzione italiana di cura e protezione dei minori dalla violenza domestica e dagli abusi sessuali. L'articolo 31 della Costituzione tutela la maternità insieme all'adolescenza e l'infanzia. È una norma costituzionale che deve essere applicata e non può, non deve essere ignorata. Non è una norma che pregiudica i diritti paterni, ma è una norma che tutela gli interessi e i diritti dei bambini. Solo questa è la sua logica e deve essere riscoperta e capita nuovamente dai giudici. Probabilmente negli anni, negli ultimi venti anni, se ne sono dimenticati. Punto 4. Attesi tutti i costi sopportati e le spese affrontate dalle vittime di violenza istituzionale, dovuta all'applicazione delle teorie a passe nei tribunali italiani o di teorie analoghe, chiediamo che il decreto legge preveda indennizzi per l'esarcimento danni per quelle madri e quei minori a cui, pur vittime di violenza domestica ed abusi documentati o comprovati da testimonianze o certificati di pronto soccorso, siano stati negati i loro diritti di giustizia e difesa per madri e minori che non siano stati ascoltati o i cui racconti siano stati pregiudizialmente sviliti grazie alla teoria a passe e teorie analoghe, o che siano stati sottopasti coattivamente a procedure mediative o di coordinamento genitoriale con i loro abusanti o a istituzionalizzazioni forzate, a CTU e valutazioni forvianti che abbiano messo in dubbio, abbiano ostacolato o comportato lo sradicamento del loro rapporto sulla base della teoria passe o di altre teorie analoghe o da queste derivate. Punto 5. Chiediamo la immediata epurazione degli albi, dei consulenti tecnici d'ufficio, di tutti quegli psicologi e psichiatri, nonché pedagogisti, mediatori, assistenti sociali, criminologi, eccetera, che hanno sostenuto la teoria passe o altre analoghe o da essa derivate, scrivendo su di essa, insegnandola, diffondendola e soprattutto applicandola. Sesto, accogliendo la petizione dell'Associazione Mesona Antica, noi chiediamo l'acquisizione immediata e l'indagine da parte della Procura Generale di Roma e del CSM di tutti e 1.500 i fascicoli processuali già acquisiti dalla Commissione parlamentare sul femminicidio. Si tratta di altrettanti casi processuali in cui potrebbero essere stati commesse gravissime violazioni di diritti fondamentali e processuali di difesa dei minori. È sbagliato dire potrebbero, in cui sono stati violati, altrimenti non sarebbero stati acquisiti questi fascicoli processuali. Chiare e tondo, violazioni della libertà di queste madri e di questi minori, della loro salute attraverso l'applicazione di prassi di istituzionalizzazioni risette, non supportate scientificamente e infondate scientificamente e giuridicamente, che potrebbero rappresentare reati di violenza privata, agite su quei minori e in quanto tali procedibili d'ufficio. Non ci sono scuse. Tutti i reati in cui le vittime sono i minori sono procedibili d'ufficio. Chiunque di fronte alla notizia di reato può denunciare e qualunque procura può agire. Io chiamo in casa la procura di Roma perché è competente, perché a mio parere i giudici sono fra le prime vittime di questo sistema. Non tutti probabilmente, ma sicuramente la stragrande maggioranza è vittima di una distorsione e in quanto tali, i giudici in quanto tali, in quanto vittime prime di queste distorsioni, la procura competente è quella di Roma. Punto settimo. Chiediamo infine l'intervento della Corte dei Conti ai fini della verifica di eventuali danni erariali allo Stato. Non sono eventuali questi danni erariali. Posto che la PAS è una teoria nazista e ce lo ha certificato la Cassazione, posto che la PAS è la sindrome della madre malevole e dunque tutte le teorie complementari ad essa, analoghe o derivate, sono naziste anticostituzionali e cioè criminali, perché questo vuol dire essere nazista, tutto ciò che è avvenuto conseguenzialmente all'applicazione della PAS è un danno erariale, EO-IPSO, le istituzionalizzazioni dei bambini, le nomine delle CTU, le nomine di tutori, di curatori, l'intasamento dei tribunali, l'intasamento per i servizi sociali. Parliamo di miliardi di euro l'anno. E poi voglio fare degli appelli, voglio fare un appello soprattutto alle mamme, alle mamme che sono stanche, perché è da anni che stanno lottando ed apparentemente non si muove niente. Purtroppo qualcosa si muove, ma si muove con dei tempi troppo rallentati. Ci abbiamo ammesso gli anni affinché la commissione femminicidio si accorgesse di una distorsione che non è una distorsione eccezionale, è una distorsione sistemica, è una distorsione in cui chiunque può incappare. Recentemente due madri mi hanno chiamato. Una madre è un giudice onorario presso il Tribunale per i minori, non dico la regione. Un'altra madre è un magistrato. Questo dà l'idea che qualunque mamma può essere rivittimizzata da queste istituzioni. persone, nessuno è al di fuori di questo sistema. Tra queste madri ci sono giornaliste, ci sono avvocate, ci sono professoresse, ci sono insegnanti, ci sono ricercatrici universitarie, ci sono anche giudici. Quindi il primo appello alle mamme è continuare a segnalare. Non ci bastano 1500 segnalazioni alla commissione femminicidio. Noi sappiamo che sono molte di più. Una mamma recentemente mi ha chiamato, è una ufficiale di una forza armata, non dirò quale, non dirò da quale ragione mi ha chiamata. La CTU ha ritenuto che sia alienante per il semplice fatto che ha denunciato. La denuncia è esitata in una condanna del padre violento. Ciononostante è stata ritenuta ostativa per il semplice fatto che i suoi superiori l'hanno spostata di regione e lei per non perdere la progressione economica e la progressione di carriera non ha potuto non accettare, anche perché essendo un militare ha dovuto accettare questo trasferimento. È stata considerata alienante. La CTU ha chiesto e il giudice ha preannunciato in udienza che le avrebbero tolto il figlio per affidarlo al padre, toglierlo ad una madre alienante. Queste sono le madri considerate inadeguate dalle nostre istituzioni. Oggi, a causa di queste teorie, un appello quindi alla Commissione, a queste mamme affinché continuino, non si devono fermare, anzi devono essere sempre di più, perché solo in questo modo il sistema, la magistratura può capire quanto sia diffuso il dramma che colpisce queste 30 madri che mi sono alle spalle, 20 mamme. Un altro appello agli ex minori, a quei bambini che sono stati vittime di violenza 15 anni fa, 10 anni fa, 8 anni fa, che oggi hanno 18 anni. Alcuni di essi sono scappati, compiuti 18 anni il giorno dopo c'è chi ha chiesto il cambio del cognome e chi è andato via dall'Italia. Sono bambini sfiduciati, che non hanno nessuna fiducia né nei tribunali né nelle istituzioni italiane. Dovete fare qualcosa, subito, presto. Sono 60.000 ogni anno i genitori che si separano. Di questi il 25% lo fa in modo conflittuale. Per gli psicologi giuridici oggi la conflittualità è più pericolosa della violenza. Questo significa solo una neccosa, che il 25% di quei 60.000 vanno automaticamente in CTU e rischiano l'istituzionalizzazione. Noi stiamo creando una società di italiani sfiduciati nelle loro istituzioni e la colpa non è delle madri, la colpa non è delle associazioni, la colpa è solo delle istituzioni che non aprono gli occhi. Quindi un appello a questi ex minori, devono parlare, è il momento giusto, perché solo loro possono spiegare non solo la violenza o non tanto la violenza domestica subita, ma soprattutto la violenza istituzionale. Perché quando dei bambini, degli adolescenti non vengono ascoltati nonostante il loro diritto di ascolto, quando non solo non vengono ascoltati loro, non vengono ascoltati neanche le prove, le ragioni portate dalle loro mamme. Questo vuol dire non fare giustizia, questo vuol dire rivettimizzare, questo vuol dire agire una violenza indiscriminata nei confronti proprio di questi bambini. Un altro appello lo voglio fare alla magistratura, perché si devono rendere conto che sono loro le prime vittime di questo sistema distorto, sono loro a cui è stato, a loro è stato sottratto il giudizio e se lo sono fatto sottrarre, ritenendo di non essere all'altezza, ritenendo di non essere competenti, ritenendo che quella valutazione di adeguatezza di genitoriale fosse una valutazione psicologica e non giuridica, quale essa effettivamente è. Io ho assistito a convegni in cui i giudici sostenevano di non essere periti peritorum, ma non è vero. I giudici sono periti peritorum, i giudici non hanno bisogno di CTU per valutare i fatti. I fatti possono essere benissimo valutati dai giudici e i criteri devono essere soltanto le norme costituzionali, le convenzioni internazionali, le convenzioni europee e le norme delle codice civili costituzionali, attenzione, non quelle incostituzionali. I giudici devono tornare a fare il loro lavoro, perché lo sanno fare, se vogliono. L'ulteriore appello è alle procure. In questi anni le madri a centinaia hanno denunciato, raramente sono state ascoltate. La soluzione è solo là, quando le madri denunciano, se le indagini partissero immediatamente, indagini serie, indagini con intercettazioni ambientali, si troverebbe subito la verità, immediatamente. E se ci fossero queste intercettazioni ambientali nel giro di una settimana, 15 giorni, 20 giorni, un mese, non avremmo bisogno né di processi che durano 10 anni, 15 anni. Poco fa le mamme mi dicevano che qualcuna aveva speso 250 mila euro, qualcun'altra 210 mila euro. Solo la mamma, ma altrettanti ne ha spesi il papà, per non parlare di tutte le spese dello Stato. Il danno era reale. Se noi, se ogni procura attivasse queste indagini, noi avremmo un risparmio di miliardi l'anno, non solo da parte dei privati, dei singoli cittadini, di migliaia di singoli cittadini, ma anche da parte dello Stato, soprattutto da parte dello Stato. È tutto là, è tutto qui la soluzione. Non c'è bisogno di fare chissà quali leggi. Bastarebbero delle procure attente che immediatamente agissero con le indagini, indagini serie, senza pregiudizi. Un altro appello lo voglio fare al legislatore. Il legislatore deve smetterla di far elaborare leggi agli psicologi. I piloti di aerei non possono mettersi sullo scranno al posto dei giudici. I giudici non possono pilotare aerei. Gli psicologi non possono fare il lavoro dei piloti e, alla stessa maniera, non possono fare il lavoro né dei giudici né del legislatore. Negli ultimi anni assistiamo a leggi, disegni di legge, purtroppo anche a norme approvate, elaborate da psicologi e psichiatri forensi, che ritengono e reputano di essere competenti, mentre non lo sono. Il risultato è evidente. Il risultato è questo. E poi chiedo alle forze dell'ordine di non farsi complici. in queste ablazioni forzate, ingiustificate, non sostenute da nessuna legge, ma soprattutto da nessuna teoria scientifica seria. Io personalmente ho mandato delle PEC al Ministero della Salute, mi è stato risposto, ho chiesto in queste PEC quali fossero gli studi in base ai quali vengono attuati queste ablazioni, ossia la cura dell'alienazione parentale, perché le ablazioni sono tutte attuate al fine di riallineare i bambini al padre rifiutato, al padre di cui hanno paura, al padre di cui raccontano abusi o violenze. queste sono prodromiche alla cura, prodromiche a resette. Benissimo, io ho chiesto quali fossero questi studi scientifici che fondassero queste cure, questi provvedimenti ablativi. La risposta è stata che gli studi sono implicita in essere, perché lo scorso anno il Ministro Speranza ha annunciato degli studi empirici sull'alienazione parentale, quindi questo vuol dire, primo, che le ablazioni che sono state fatte negli ultimi vent'anni e tuttora vengono fatte ad oggi sono tutte illegittime, tutte, nessuna esclusa, perché gli studi empirici se sono stati avviati non sono ancora ultimati e comunque, secondo aspetto, quali studi empirici possono essere fatti riguardo una teoria riguardo la quale già si è pronunciata l'OMS, già si è pronunciata la comunità accademica internazionale dal 1995 ad oggi ripetutamente. Voglio chiarirlo qui una volta per tutte, l'OMS non ha accettato l'alienazione, la teoria alienazione parentale né come sindrome, né come disturbo, né come disordine, ma neanche come problema relazionale. È stata fatta questa esplicita, chiara, precisa domanda all'OMS ed è stata rigettata la richiesta. Quindi di cosa stiamo parlando? Studi empirici che se qualora fossero stati avviati rappresentano un chiaro e gravissimo danno erariale.